Il nostro compito è quello di sviluppare il turismo, siamo un gruppo di società che hanno alberghi, agenzie di viaggio e tour operator e vogliamo in questo posto portare l'innovazione, quello che ci ha consentito in questi anni di crescere e di passare da una piccola realtà di provincia a un gruppo alberghiero molto molto grande, quindi il turismo se ne parla molto, se ne discute molto, però in realtà molto spesso rimane solamente a livello progettuale. L'idea è quella che le officine Garibaldi diventino un vero incubatore di idee, dove le persone che hanno idee, le aziende che hanno idee potrebbero venire qua e contribuire a uno sviluppo di quello che direi che è l'oro verde della Toscana, perché il turismo è veramente la risorsa che consente a moltissime aziende e famiglie di vivere e sopravvivere e in futuro potrebbe diventare veramente l'industria trainante della regione. Quindi noi siamo qua, da oggi siamo aperti, siamo molto contenti di accogliere tutti quanti, vorranno appunto condividere con noi questo meraviglioso progetto.